Ecco, adesso abbiamo preso la registrazione e non se lo togono di più. Adesso si rompe il computer quando non lo riscalco. Allora, passiamo anche, chi sono i suoratori di John Arndt? Cos'è, John Arndt ha perso... Una volta John Arndt era un pezzo molto tecnonato, insomma, John Arndt era in cinale possibile una volta. Adesso, effettivamente, dopo cinque anni che lo ripetiamo continuamente, forse qualcuno si è spuffato di farlo. Spero, ormai, è diventata la nostra sigla di inizio e quindi è qui che noi parliamo. Puoi aggiornarvi? No, adesso puoi aggiornarvi, basta quindi giri la sedia, giri la sedia. Pronti? Bene, sigla di inizio e partiamo. Pronti? Pronti? ASSANDRA... No, no, non lo stai inizio con i suvismani. Si va bene! Un Obisicimeter Grazie a tutti. 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 a tutti.